Ciao ragazzi, ben ritrovati dall'Andrea Link e benvenuti in un nuovo video, spacchettamenti. Dopo aver spacchettato l'Elite Trainer di Regno Glaciale, si spacchetta Kylyrex, Cavaliere Glaciale e Kylyrex, Cavaliere Spettrale. Cominciamo. Credo che inizierò con Cavaliere Glaciale, che tra l'altro è anche quello che ho scelto nel mio Let's Play di Pokémon Scudo, nonostante si possano prendere entrambi se avete due account sul vostro Nintendo Switch. Sto vedendo se posso aprirlo senza distruggerlo, ma la vedo molto dura. Penso di fare il meno danno possibile. Ecco qui. Insomma, il saper tagliare la carne si è rivelato utile. Eccolo qua. A parte che ha girato, eccolo qua. Così. Bello. Oh, allora, io di Jumbo ne ho davvero poche. Ho la Jumbo di Rayquaza Shiny. Mamma mia ragazzi, che bella. Vabbè, che figata è. Stupenda. E questa, beh, quella piccola è uguale all'altra. Questa la sliviamo subito. Tra l'altro, due di Regno Glaciale, le buste. Un Fiamme Oscure. Qui c'è il Charizard. Fantastico. E sintonia mentale, che non è che ci sia poi tanta roba, ma qualcosina di bello c'è. Se volete il codice, apriamoci anche Cavaliere Spettrale e siamo a cavallo. Sì, so cosa ho appena detto. Oh, allora. Questa. Questa è davvero, davvero bella. Cavolo. Prima o poi comprerò qualche sliv per le Jumbo. Direi di partire col Regno Glaciale e poi andare fino a Sintonia Mentale, passando per Fiamme Oscure. Allora, bene o male, queste le ho già aperte, quindi qualcosina già ho visto. Abbiamo Energy Herb. Forse dovrei metterle un pochino più, ecco, più vicino, magari è meglio. Narciso. Drizzle o Drizaiol, se preferite. Cast Forma Pioggia. Farfetch, questo è bellissimo, che cota. Quanti di giardinaggio. Ah, da giardinaggio, non so leggere. E Zangus, oh, questa è bella. Questa c'è la coppia con Seaviper. Praticamente le mettete vicine e sembra che stanno combattendo. Poi, andiamo col secondo. Aia, questo, no, questo proprio, anche volendo non potevo aprirlo in una maniera decente. Proprio mi si è disfatto in mano. Abbiamo Energy Herb. Corno Echeggiante. Fermezza di Karen, però non è bionda, quindi questa Karen va bene. Forma Nuvola di Neve. Nome completo. Nome e cognome. Cast Forma è il nome e Nuvola di Neve è il cognome. Aaron, carino. E Grappolokt. Anzi, Grappolokt. Non so perché lo leggo Grappolokt. Però è bello. Praticamente sta distruggendo un albero. Sincro distruzione. Ah, ecco cos'è. Anche Aaron è molto bellino. Mi piace davvero tanto questa. Tra l'altro, mi piace il fatto che sia solo Lotta e non anche acqua. Nonostante lo troviamo su uno scoglio. In mezzo all'acqua. Beh, ci sono anche gli scogli che stanno sulla terraferma. Da me ce ne sono tanti. Dove abito io, pure troppi. Energia Elettro. Stini. Collina da inalbero. Rotolo dei Cieli. Io preferirai Flauto dei Cieli, visto che stiamo in periodo di remake. Manca davvero poco. Se non mi ci hanno messo Arseus o Arca, so come volete dirlo. Mi arrabbio. Comunque lo si dica, l'importante è che ci sia. Ma... Ah, Larvest e Volcarona. Mi dico, ma come? Due Larvest? Ma... Un momento. Ma... Ah, eccola. No, vi dico scammata. Vi dico... A parte che può succedere, ragazzi, che in un pacchetto ci siano o solo Reverse, o solo Holo, o nessuna. Perché a volte lo facevano anche con i pacchetti di Yu-Gi-Oh! Sballano il taglio delle carte e tutto il resto e magari ti capita un pacchetto dove ci sono tutte carte particolari. Una volta tipo in Yu-Gi-Oh! tutte quante rare. Quindi nulla in termini di Yu-Gi-Oh! Le rare una volta non valevano nulla in Yu-Gi-Oh! Non valevano ai termini di gioco, non ai termini economici. Perché una volta il valore economico neanche ci si badava, neanche si sapeva. E mi sono interessato al valore economico... Bello, bello, bello. Al valore economico delle carte quando comprai Yu-Gi-Oh! guida ai prezzi e vedi che c'erano tipo spadaccine di kanan da torneo a 1500 euro. Io dico, ma non può essere che un pezzo di carta valga così tanto, eppure... Zeb Strika... Ok. Sì, carina però. Crab Brawler è molto bello. In realtà Crab Brawler non è un Pokémon visivamente bello, ma vedendolo qui in carta, disegnato in questa maniera, che poi in realtà... ovviamente chi voleva essere se non Arita, ovviamente. Però, l'attacco pugnetto... Abbiamo l'energia a metallo, passando per Fiamme Oscure. Pupitar, Starivia. Snubbull, Marip. Panzer, bello. Dino, bello. Q-Fant, non ne parliamo. Rose Tower e... Oh! 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 Calmo! Calmo qui un attimo, tu! Calmo! Rose Tower. Ok. Ok. Ma in Fiamme Oscure c'era Lugia? Cioè, l'altra volta ho aperto 400 euro di Fiamme Oscure e non ho trovato neanche un Lugia? Ovviamente non mi si apre neanche per sbaglio. Ecco, io per esempio non potrei mai aprire pacchetti vintage perché faccio schifo ad aprire pacchetti normali nuovi. Figuriamoci quelli vintage. Si disintegrano. Energia lotta. Sì, misericordia. Ah, vedi, posso fare il deck con le scimmie. Urso, bello. Ok, molto molto carino. Un altro Dino? Un altro Q-Fant? Uishiwashi che piange perché non ha più nessun amichetto. Devo metterle più vicino alle carte in questa maniera, se no non si vede nulla. Ok, questa girata Kling Klang tagliata malissimo. Ok. È un po' più spostata verso di qua, ma... Va bene, proprio quando si vede a occhio nudo, ragazzi, è brutta, eh. Tra l'altro girata, chissà perché. Codice. Non so, ho le carte storte oggi. Energia lotta. Lapras. Cintura da karate. Mirton, che non sentivo pronunciare quel nome da tempi di... Che era bianco e nero. Snorant. Drillbr. Weble. Pidou. Honage. E Camerapt. Carino sto Honage. Anche Camerapt è un Pokémon che non vedo tipo da sempre. Molto carino questo Honage. Sico. Ok. Un po' strano. Anche oggi non c'è nessuno a sculo. Tra l'altro, ragazzi, il prossimo spacchettamento sarà di evoluzioni eteree e poi per il 25esimo anniversario, il 23 ottobre, proprio giorno del compleanno, uscirà l'espansione quella con le carte speciali, quella con il Charizard di Lance, quella con Pikachu per il 25esimo, insomma, quella anche la porterò, non il giorno d'uscita perché mi sarebbe impossibile, però il giorno dopo assolutamente, quindi magari lì un po' di sculo ce lo becco. Tra l'altro, avendo sculato il Charizard Rainbow, oh, Tapu Fini, il Charizard Rainbow in futuri campioni, eh, non perché voglia rivendere, ma perché mi piace Charizard, quindi, insomma, vorrei dire. Cryogonal, beh, questo chi è di Sugimori? Beh, sì, ovviamente quando è l'immagine standard con lo sfondo pre-renderizzato. Devo dire però, ragazzi, che questo Lugia, anche questo un po' decentrato, ma chi se ne frega, non me l'aspettavo, non sapevo si potesse trovare. Comunque, bah, bottino nulla, tranne queste qui che mi interessava appunto averle per collezione, queste due. Cadirex, Cavaliere di Ghiaccio e Cavaliere Spettrale, quindi ci stanno tantissimo. Va bene, ragazzi, per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi e noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye!